Questo video riguarda i migliori tre caffettiere. Il vincitore della qualità è il Delonghi Alicia Plus. Puoi programmare la mocha fin dal giorno prima e troverai il caffè pronto al tuo risveglio. Il caffè può essere fatto all'istante grazie al controllo manuale. Con la funzione aroma si potrà selezionare l'aroma del caffè desiderato tra leggero, medio e forte. Funzione orzo selezionabile dal display con incluso l'innovativo filtro orzo anti-impurità. Il caffè non trabocca mai, poiché la caffettiera si spegne automaticamente e rimane in caldo per 30 minuti. Caraffa e coperchio trasparente per controllare l'erogazione del caffè. Scegli in base alle tue esigenze, Alicia ti consentirà di preparare fino a 4 caffè. La caffettiera, senza filo ha una base di supporto girevole a 360 gradi. Grazie alla base fredda ed è possibile appoggiare la caffettiera ovunque. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Bialetti Mocha. L'originale caffettiera, simbolo del made in Italy, oggi è adatta anche a tutti i piani cottura ad induzione. Mocha Induction Bialetti offre l'esperienza del vero rito italiano di preparare un buon caffè da gustare con chi vuoi. L'innovativa tecnologia della caldaia B-Layer permette di avere un prodotto ad alte prestazioni. Il doppio strato della caldaia, infatti, garantisce la preparazione del caffè secondo la migliore tradizione italiana e consenta un'uniforme distribuzione del calore per un perfetto utilizzo su tutti i piani cottura ad induzione. Per avere un ottimo caffè aggiungete l'acqua all'interno della caldaia fino alla valvola di sicurezza, inserire l'imbuto e aggiungere il caffè macinato per mocha senza pressare. Le dimensioni della Mocha Induction Bialetti si misurano in tazzine. Il caffè può essere gustato in tazzine espresso o in tazze più grandi in base alle proprie esigenze. Il vincitore del premio è il Bialetti Mocha Express. È l'ottima caffettiera, simbolo del made in Italy, che offre l'esperienza del vero rito italiano di preparare un buon caffè. Prodotto made in Italy, esclusiva valvola di sicurezza brevettata ispezionabile e facile da pulire, inoltre offre un manico ergonomico per facilitare la presa del prodotto. È disponibile in molte misure e adatto per gas, elettrico e induzione. Riempire con acqua la caldaia fino alla valvola di sicurezza, inserire l'imbuto e aggiungere il caffè macinato per mocha senza pressare, chiudere la mocha e posizionarla sul piano cottura. Le dimensioni della mocha express si misurano in tazzine, il caffè può essere gustato in tazzine espresso o in tazze più grandi in base alle proprie esigenze. La mocha express Bialetti deve essere sciacquata solo con acqua dopo l'uso, non usare detergenti. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.